Il 2 settembre il liceo scientifico Masce di Chieti porta in scena uno spettacolo come avviene ormai da tanti anni, ma questa volta lo dedica alla città di Chieti. Uno spettacolo aperto che sarà proprio sotto le stelle della Villa Comunale per parlare di pace. Il titolo è infatti Un passo per la pace. Sì, diciamo che la nostra scuola ha una tradizione sotto questo profilo che va avanti da moltissimi anni, però quest'anno abbiamo deciso di uscire e di aprirci alla città di Chieti e abbiamo inaugurato questo percorso appunto verso la pace, verso questo messaggio che i ragazzi vogliono assolutamente portare fuori. Infatti noi a scuola abbiamo una orchestra da un po' di tempo, da qualche anno e abbiamo un gruppo di danzatrici e addirittura in occasione di questo spettacolo abbiamo anche scisso un po' gli elementi dell'orchestra e abbiamo costruito una band musicale. Tommaso è ex studente del liceo Masci, un giovane violinista di casa Nincontrada che sogna di arrivare all'Accademia di Santa Cecilia. Come è organizzato questo orchestra per quello spettacolo che andrà in Scena il 2? In questo spettacolo eseguiremo comunque brani tratti dal repertorio rock anni 70. Ci siamo anche soffermati in quest'anno molto più degli altri anni sulla sezione della band. Alle tastiere abbiamo Loris Mantini e Michela Di Caro, alla voce abbiamo Giulia Martino, Valerio Disidoro, alle chitarre Fabio Di Francesco Antonio, Cecilia Iezzi e al basso Thomas De Miglio. Alla batteria Matteo Basciano. E Peace for Peace è un titolo evidentemente ispirato alla pace perché avete scelto questo argomento? È stato scelto perché mai come quest'anno la pace è tornata in auge, il dono più prezioso per l'umanità che mai avremmo sperato di invocare a gran voce dopo i fatti della guerra in Ucraina. Per cui i passi di danza, di musica e recitati aiuteranno il pubblico a rinnovare l'alleanza per la pace. Ringraziamo il Giardino delle Pubbliche Letture presieduto dalla dottoressa Cinzia Di Vincenzo, giunto alla sesta edizione, che rinnova costantemente l'alleanza culturale per la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città di Chieti.